Tu non ce l'hai una casa? E tu non ce l'hai una vita? Dai, dai! Spero che il toast che è uscito sia di farina integrale. Ieri sera ho sentito in televisione che il metabolismo di una ragazza sotto i 18 anni è tre volte superiore al metabolismo di una donna sopra i 35 anni. Non è una di quelle cose che ti fa riflettere? Allora, Sally, te l'ha già detto che non va in campeggio questa settimana? Perché no? È stupido. Si va a cavallo. Si nuota nel fiume. Si sta fuori portata dai genitori. Tutte cose che a quanto pare non hanno più presa su di lei. Ma io le ho insegnato ad essere indipendente e rispetto la scelta. Apprezzo che sappia prendere le sue decisioni. Come ti dico sempre? Amami. E? Rispettami. Esatto. Esatto. Grazie a tutti